Musica Riunione operativa alle 13 di oggi presso il municipio di Mortegliano, epicentro del maltempo, che ieri sera ha creato danni generali nell'area del Medio Friuli. Presenti l'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi, i sindaci dei comuni colpiti dalla furia dei fortunali e i tecnici della protezione civile regionale. 50 milioni di euro stanziati nell'immediato per avviare i primi interventi in aiuto delle popolazioni colpite per la messa in sicurezza e la sistemazione delle infrastrutture. Prima dell'incontro c'è stato un sorvolo a bordo dell'elicottero per visionare i danni in un'area di circa 50 km quadrati che comprende 7 territori comunali. Terminato il briefing, l'assessore assieme ai tecnici si è successivamente diretto al municipio di Gorizia, dove si svolgerà nel tardo pomeriggio un'altra riunione alla presenza dei primi cittadini della provincia Friuli-Isontina colpiti da grandine e downburst che hanno provocato diversi danni anche da quelle parti.